Il volantino annesso al manifesto della serata Per partecipare a questa cosa Ho detto cazzo se leggi l'unica cosa che è scritta nel mio disco Sembra quello che ho scritto io la sintesi di quello che stai dicendo tu O la localizzazione diversa di quello che stai dicendo tu Quindi io sono proprio strafelice di essere qua È figo Hai presentato il tuo primo lavoro Sì sì è il mio primo disco Non voglio chiamarlo proprio un disco perché non so cosa sia È un po' un esperimento più che altro E quindi stasera presento questa cosa che si chiama Allusioni Ed è uscita da pochissimo Con cui sono in tour È la prima volta che vengo a Milano E poi hai chiuso con una buonanotte scordata Madonna Sì sì Perché l'ukulele è difficilissimo Almeno io ce l'ho da poco E non riesco mai ad accordarlo Orecchio E c'è il clima dentro quella stanza lì Che ci sono 50 gradi sotto i fanali E questo qua c'ha le corde di nylon E quindi lo tiri fuori Si è boishato tutto Cazzo E quindi lo tiri fuori Stortatissima buonanotte Ci stava anche da buonanotte a scordarmi Era un gesto così di... così buono, non so Ciao, gentile